Buongiorno Daedo, volete sapere qual è la definizione accademica di ancientification? Beh, cercate quanto vi costerà l'abbonamento ad Amazon Prime Video dal 9 aprile se volete togliere la pubblicità. Ci dici come già lo pago, perché pago il Prime annuale che poi mi dà anche il Prime Video più altre cose, ma dovrò vedere la pubblicità? Sì, dovete vedere la pubblicità in Prime Video, a meno che voi pagiate 1,99€ in più al mese per il piano Prime Video senza pubblicità. Quindi capite che questa è proprio la definizione accademica, cioè Amazon vi ha presi nel suo giro di utenti grazie a costi bassi e insomma il servizio offerto a quei costi negli ultimi anni e ora, zack! Qualcuno evidentemente ha fatto notare che le perdite sono troppo alte rispetto ai ricavi e quindi andiamo a caricare gli utenti di due in realtà oboli diversi perché o si beccano la pubblicità oppure ci danno dei soldi. In ogni caso guadagneremo di più. Questa è proprio da manuale e in certification di Amazon Prime Video. Come in realtà è un po' per tutte, perché pure gli altri hanno fatto più o meno le stesse cose nell'ultimo anno, ma d'altra parte questa roba è correlata anche con i vari layoff nelle big tech che si stanno vedendo ultimamente perché naturalmente non è possibile andare avanti con questa bolla economica di società che vanno avanti in perdita per anni. Qualcuno prima o poi si sveglia e dice ma qua bisogna guadagnare qualcosa altrimenti cosa stiamo qua a fare? E quindi via di layoff, via di abbassamento degli stipendi, taglia le assunzioni e poi anche ci rivaliamo sugli utenti naturalmente che sono quelli che possiamo spremere di più. Quindi cosa vorrete fare? Continuate a mantenere il vostro abbonamento Prime senza pubblicità, con pubblicità, ve ne andate del tutto? Non lo so, io Prime ho deciso che non ce l'ho più, è anche correlato a questo naturalmente. Però insomma, preferisco pagare per dei servizi che mi rimangono con il prezzo che mi hanno promesso e mi danno un servizio buono senza vendere i dati e senza darmi pubblicità che non voglio. Quindi transizione verso servizi pagati e senza pubblicità che sto facendo in questi anni. Sono molto soddisfatto, ho cominciato dalla email e sto andando anche verso il resto, mi piace molto. Bene, oggi però nel buongiornone parleremo di cose brutte, cioè parleremo di problemoni che si sono verificati. Intanto problemoni a GitHub, problemoni di security, quindi parliamo un po' di security su GitHub e poi problemoni dovuti all'anno bisestile. Ieri era il 29 febbraio, qualcuno si è accorto che l'informatica non è pronta a gestire le date, nonostante 60 anni di gestione delle date, in informatica non siamo ancora pronti, ci sono dei problemi. Vediamo un po'. Allora, è venerdì 1 marzo, quindi benvenuti in marzo. Questa news però che vi do è di un paio di giorni fa, cioè l'ho letta un paio di giorni fa, è arrivata da un blog di Apiro, spero che si pronunci così, o API Airo, non lo so. Comunque è una società che si occupa di cyber security, fa dei prodotti proprio per la cyber security, soprattutto la cyber security della supply chain, poi vediamo un po' meglio, e ha fatto un'analisi su GitHub scoprendo che ci sono una marea, ma centinaia di migliaia di repo GitHub maliziosi, sapete malicious, maliziosi è una brutta parola tradotta così in italiano, però mi è venuta così, non so come tradurlo in realtà. Insomma, dei repo che non sono quello che dovevano essere, dovrebbero essere all'apparenza, ma sono in realtà stati infettati con del malware. Nell'articolo spiegano appunto l'analisi e che cosa hanno trovato. Allora, ve lo vado un po' a leggere. Il nostro team di ricerca Data Science ha trovato un risorgimento di una campagna di repo confusion su GitHub che era iniziata lo scorso anno, circa metà anno, però adesso è su una scala molto più grande. Vedete che la chiamano repo confusion. Adesso poi vi spererà che cosa vuol dire. È un termine praticamente che credo abbiano coniato loro, che insomma si presta molto bene a questo attacco in particolare. Quindi l'attacco impatta più di 100.000 repository su GitHub, ma presumibilmente milioni, quando dei developer che non se ne accorgono appunto scaricano, usano o forcano dei repository che sembrano repository reali, conosciuti e fidati, ma che in realtà sono repository fasulli e infettati con codice malware, appunto codice malizioso. Ecco che cos'è il repo confusion. Allora, è simile all'attacco dependency confusion. Adesso, non so se vi ricordate che cos'è il dependency confusion, comunque è un tipo di attacco della supply chain. Si basa su come funzionano i package manager, cioè per esempio NPM, come package manager. Questi package manager, quando voi gli dite il nome di un pacchetto da scaricare, loro fanno due tipi di controlli. Prima vanno a controllare i repository pubblici, per quel nome, e poi i repository privati. Quindi se un attaccante scopre che la vostra azienda ha un pacchetto in un repository privato, basta che, o basta, in realtà in molti è stato corretto questo comportamento, comunque bastava creare un pacchetto pubblico con lo stesso nome ed ecco che il package manager, quando voi andate a installare quel pacchetto, vi andava a scaricare quello pubblico invece di quello privato che voi vi aspettavate. E quindi voi vi ritrovate un malware nelle dipendenze della vostra app senza manco accorgermene. Questa è la dependency confusion, ok? Quindi, simile a questo tipo di attacco, c'è questo repo confusion. E cosa vuol dire? Vuol dire che gli attaccanti vanno a creare dei repo finti, maliziosi, pieni di malware su GitHub, che sembrano quelli veri, quelli reali. Quindi la dependency confusion, dice poi a Piro, sfrutta il modo in cui funzionano i package manager, quindi è un problema della macchina, del software. Ma il repo confusion invece è un problema degli esseri umani, che non si accorgono che quello che stanno facendo è sbagliato, cioè che il repository non è quello reale. Non è un problema, diciamo, del software, ma proprio un problema di come noi funzioniamo. Nel senso, noi guardiamo spesso soltanto il nome, il logo, non andiamo a approfondire ulteriormente, non cogliamo magari segnali che ci potrebbero dire che quello è un repo finto, lo andiamo a scaricare e usare e veniamo infettati. Come si è diffuso questo attacco? Come hanno fatto gli attaccanti a riempire GitHub con centinaia di migliaia di repo maliziosi? Beh, hanno clonato repo esistenti, per esempio Twitter FollowBot, WhatsappBot ed altri, li hanno infettati, ovviamente i repo clonati, con dei malware, a questo punto hanno rifatto l'upload di quei repo su GitHub con nomi identici agli originali, e poi hanno rifatto questa cosa automaticamente per centinaia di migliaia di volte, e a questo punto poi hanno iniziato a spammare questi link di repo finti in giro per il web, sui forum, su Discord, eccetera. A quel punto, cosa succede a uno sviluppatore che va a clonare e scaricare quel repo più di malware? Succede che, guardate per esempio questo video, adesso lo sto facendo vedere, che nel codice sorgente del repo infettato, del repo sbagliato, c'è del codice che vi esegue del malware e questo è offuscato, quindi a una prima occhiata non si vede, però se andate bene a vedere cosa c'è dentro, trovate anche dei grossi problemi nel codice. Naturalmente molti di questi repo forcati sono rimossi da GitHub, che quando li riesci a identificare, però insomma sono così tanti che GitHub fa fatica andare a rimuoverli tutti, perché naturalmente il processo di rimozione in gran parte è manuale, e capite che con una marea di attacchi di questo tipo è difficile starci dietro. Quindi considerando i dati trovati finora, la stima è che ci siano milioni di repo su GitHub, compresi quelli già cancellati, creati in questo modo, insomma, e si possono trovare, cercando delle occorrenze nel codice, si possono trovare repo di questo tipo. C'è poi su questo blog post su Apiro, un po' una timeline della campagna, che era iniziata a maggio del 2023, con la compromissione in realtà di un pacchetto di PyPI, quindi qualcuno aveva caricato un pacchetto con del malware come dipendenza PyPI, e poi anche a luglio e agosto questa campagna era andata avanti facendo upload di repo che contenevano codice malizioso su GitHub. A questo punto, da novembre 2023 a oggi, questa è definitivamente esplosa, quindi ci sono più di 100.000 repo che contengono codici di questo tipo. Allora, qualche considerazione che prendo anche un po' proprio da questo post di Apiro sugli attacchi alla supply chain. Intanto, di nuovo, che cos'è la supply chain security? Per supply chain noi intendiamo tutta la catena delle dipendenze di un software, di un'app, quindi le dipendenze come librerie, quando un'app dipende da altro software, ma anche tutti gli step che portano alla build e al download di un'app, quindi gli step di build automatici appunto, tipo le action di GitHub o le pipeline su GitLab o su Jenkins, insomma, tutti gli step automatici che portano alla build di un software, cosa succede all'interno di ogni singolo passaggio di queste build, e quindi tutto quello che crea poi degli artefatti, quindi dei pacchetti software che arrivano fino al download. Quindi con tutta questa catena, e altro anche in realtà, comprendiamo anche gli interventi umani, si definisce la supply chain software. Ora, la supply chain software è sotto osservazione per gli attacchi, appunto abbiamo citato gli attacchi alle dipendenze su NPM, abbiamo citato PyPI, ebbene, questo fatto, cioè l'aver scoperto questo numero di repo infettate su GitHub, riflette, anche secondo Apiro, un trend, cioè che adesso gli attaccanti si stanno concentrando verso gli SCM, cioè i source code manager, perché hanno avuto meno attenzioni di sicurezza in questi ultimi anni, cioè ci siamo concentrati più sulla sicurezza dei package manager e abbiamo un pochino trascurato quella degli SCM, quindi la maggior parte delle operazioni di sicurezza viene eseguita da gruppi di ricerca, quindi manualmente, e quindi gli attaccanti hanno capito che possono sfruttare alcune falle e questi processi di ricerca, di attenzione, per andare a infettare direttamente gli SCM, che probabilmente sono un pochino più deboli. Quindi questo è un po' il trend generale, attenzione quindi intanto ai repo che si scaricano e poi seguiamo un po' questo trend, perché sicuramente GitHub farà qualcosa, adesso sta facendo grande fatica a contenere questo attacco, questo è anche un report che mi ha dato The Register, GitHub sta andando a cercare di tenere testa a questo grosso attacco, però sta facendo molta fatica e quindi dobbiamo aspettarci magari dell'irrobustimento negli check manuali e automatici che si fanno quando si va a creare un repo o si va a creare un account, almeno, come ha fatto NPM quando ha richiesto l'autenticazione, almeno l'autenticazione a due fattori, quando si pubblica un pacchetto su NPM, ecco, credo che si andrà a irrobustire ancora di più i check minimi per poter pubblicare un repo o forcare un repo. E poi comunque continueremo a seguire, perché come sta succedendo soprattutto negli Stati Uniti, adesso hanno pubblicato il Cyber Security Framework 2.0 dal NIST, insomma, l'amministrazione Biden in generale è piuttosto attenta a questo tema, ma quindi sicuramente ci torneremo. E prima di passare al 29 febbraio, vi do una notizia che riguarda sempre la security, l'Europa, e però riguarda un pochino di più noi cittadini, diciamo noi come cittadini, perché riguarda quella proposta, ecco, che ne abbiamo già parlato, infatti se riesco vi metto il link qua, in questo punto del video, almeno su YouTube, cioè del chat control, la richiesta delle autorità europee di poter andare a vedere i messaggi scambiati via chat, che sono tendenzialmente crittati end to end, e quindi avere delle chiavi che rompono questa crittazione, che ovviamente poi risulterebbe non più safe, non più crittata. Ebbene, c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha stabilito che le leggi che richiedono una crittografia indebolita, che quindi dà a disposizione qualcun altro delle chiavi per poterla guardare, e la grande conservazione dei dati proprio di queste chat, ecco, queste cose virono la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che questa decisione naturalmente potrebbe ostacolare proprio la legislazione europea, che è nota come chat control. La causa alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo era stata avviata nel 2017 da un utente di Telegram in Russia, quando la Russia ancora faceva parte del Consiglio d'Europa, adesso no, però questa causa nel frattempo è andata avanti. Questo utente, Telegram, aveva contestato il Servizio Federale di Sicurezza Russo, FSB, che aveva dato un ordine di fornire le informazioni tecniche per decrittare la comunicazione dell'utente, quindi la cosa che si sta dicendo adesso no, indebolire questa crittografia. La Corte ha concluso che la legge russa che richiede a Telegram di decrittare le comunicazioni crittate end-to-end rischia di equivalere alla richiesta di fornitori di tali servizi di indebolire il meccanismo di crittografia per tutti gli utenti. E questa richiesta, secondo la Corte, è una richiesta sproporzionata rispetto agli obiettivi di contrasto alla criminalità. Questa sentenza, a rilevanza per i paesi europei che stanno contemplando leggi come il Chat Control o l'Online Safety Act, che anche qua ne avevamo parlato, se vi ricordate, c'entra il Child Sexual Abuse, insomma, queste leggi richiederebbero ai fornitori di servizi internet di scansionare le comunicazioni digitali alla ricerca di contenuti illegali, quindi rompendo di fatto, compromettendo la crittografia che garantisce le privacy delle comunicazioni. E vi do una reazione di Patrick Breyer, che è membro del Parlamento Europeo per il Partito Pirata, che ha detto che a questo punto è ovvio che Chat Control è incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. Oh, e in ultimo, cosa è successo ieri? Ieri era il 29 febbraio, quindi abbiamo l'anno bisestile e siccome siamo informatici, non sappiamo utilizzare le date. Questo è abbastanza scontato e quindi diversi servizi software e hardware hanno avuto dei problemi proprio ieri a causa del fatto che il sistema delle date è andato un po' in palla. E' strano, no? Pensare che un fior di software di grandissimo livello abbiano problemi a gestire un giorno particolare che però si verifica costantemente. Cioè, ogni 4 anni abbiamo il 29 febbraio. Possibile che non ci sia un sistema per sistemare questa roba? E' effettivamente è possibile. Oh, non è mica l'unico bug che riguarda le date che abbiamo. Non so se vi ricordate il millennium bug che poi, va bene, è stato meno grave di quello che ci poteva immaginare, però c'è stato. Ce ne sarà uno che arriverà fra un po', che è il bug dell'anno 2038. Sapete perché c'è l'anno 2038? Lo year 2k38 bug. Perché adesso cerco di spiegarlo umanamente. In Unix le date si salvano e si visualizzano utilizzando il numero di millisecondi trascorsi da un certo istante che tipicamente è il primo gennaio del 1970. quello è Epoch. Quindi il numero di millisecondi trascorsi dalla mezzanotte del primo gennaio 1970. Quello è il tempo così come viene immagazzinato nei sistemi Unix. Quindi ti servono dei bit per scrivere e rappresentare quanti millisecondi sono passati da quel momento e con quello tu hai la data di oggi. Il problema è che nei sistemi a 32 bit tu hai bisogno di salvare gli interi con 32 bit. Quanti millisecondi puoi salvare in 32 bit? Beh, se li salvi come intero con il segno quindi vai da meno a più praticamente hai da meno 2 alla 32 fino a più 2 alla 31 meno 1 perché un bit poi ce l'hai per il segno e quindi il totale di questo il totale di questi millisecondi ti porta fino al 2038 quindi oltre al 2038 con 32 bit non puoi andare quindi molti sistemi stanno già iniziando a pensare a non poter più rappresentare il tempo con 32 bit. fortunatamente adesso gran parte dei sistemi è a 64 bit che praticamente ci danno il tempo di millisecondi dell'universo però alcuni che rimangono invece a 32 bit avranno dei problemi e bisognerà sistemarli. Questo per dire che le date non è che sono una cosa così semplice da risolvere tanto che chi ha scritto My Software sa quanto sia problematico gestire le date e le time zone ma ieri che era appunto business stile è venuto fuori che ci sono stati molti problemi e qui ho trovato un elenco dei bug del 2024 l'ho fatto tradurre da Firefox quindi il testo è abbastanza strano però è divertente vedere quanti bug ci sono stati proprio a causa o quantomeno riconducibili probabilmente al leap year così come viene definito l'anno business stile in cui ieri era una data particolare vi do alcuni di questi casi simpatici per esempio in Nuova Zelanda molte stazioni di servizio non hanno funzionato hanno avuto problemi con i sistemi di pagamento self service e gli orologi smart FS1 avevano problemi a visualizzare la data del 29 febbraio Amazfit che ha orologi smart anche quelli problemi a gestire giorno bisestile degli ospedali nel Queensland in Australia hanno subito una interruzione totale di sistemi telefonici 29 febbraio l'app di budgeting YNAB You Need a Budget aveva un bug con la funzione sul monitoraggio delle transizioni programmate ricorrenti che si ripetono l'ultimo giorno di un mese e questi si sono verificati il 28 febbraio invece del 29 febbraio vabbè magari poco importante poi i sistemi informatici che rilasciano patenti di guida in Giappone hanno avuto problemi a funzionare proprio ieri videogiochi i giocatori di Theater Rhythm Final Fantasy per Nintendo Switch avviando il gioco ieri hanno avuto schermo nero non riusciva a funzionare dovevano mettere lo switch in modalità aereo e riportare poi l'orologio al 28 febbraio così risolvevano poi c'è Sophos che è un fornitore di software per la sicurezza informatica ha emesso un avviso anche che dicendo che i software di Sophos potevano riscontrare un problema con i certificati SSL se venivano avviati o riavviati il 29 febbraio e la soluzione consigliata era quella di disabilitare la funzione del software che degritta le connessioni SSL ancora videogiochi il gioco di Electronic Arts VRC praticamente si spaccava all'avvio e la soluzione consigliata di Electronic Arts è di cambiare la data di Xbox o Playstation al primo marzo questo c'è anche il tweet vedete il tweet ufficiale per chi gioca su Playstation andate su Setting System Date and Time e settate la data al primo marzo 2024 e in questo modo il gioco ricontinua a funzionare anche Citrix ha avuto dei problemi e il 29 febbraio si blocca si bloccano i sistemi la funzione On This Day di Microsoft OneDrive non mostrava le foto del 29 febbraio ma era bloccata al 28 febbraio ah poi anche l'illuminazione stradale di Parigi si è spenta le luci si sono spente a mezzanotte del 29 febbraio e se andate su Le Parisienne vedete proprio anche l'articolo che ne parla c'è questo tweet che vi fa vedere Parigi la notte questo è intorno alle 4 di notte totalmente senza illuminazione vedete perché appunto l'illuminazione funziona via software e si è spenta e non funzionava a mezzanotte del 29 febbraio Best Buy ha avuto un problema con la selezione della data della carta di credito proprio per acquisti il 29 febbraio ChatGPT anche 3.5 quindi la versione gratuita di OpenAI non capiva se la data del 29 febbraio era valida o meno e anche alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le API di OpenAI e infine vi dico che anche Cloudflare ha avuto problemi con le fatturazioni quindi con le fatturazioni relative al 29 febbraio hanno poi segnalato il bug non è chiaro se fosse correlato appunto al business stile però c'è almeno uno su Hacker News che ha pubblicato una fattura che riportava la data del primo gennaio 1970 quindi l'epoque Unix come vi ho detto prima e questo è insomma anno business stile noi programmatori non siamo in grado di gestire le date questo mi sembra abbastanza assodato per i link di oggi intanto giochiamo giochiamo con un gioco che non ha problemi di gestire delle date è Mario Kart fatto con React e 3JS cosa abbastanza incredibile andiamo a vederlo guarda qua Mario Kart 3.js poi naturalmente vi lascio il link a questa meraviglia questa è una ricreazione di Mario Kart tra l'altro con dei livelli nuovi strani pubblicato qua sembra proprio a Parigi che funziona con con 3JS e React quindi provo a giocare ecco ho selezionato la tastiera e qua vado sto andando e funziona benissimo è meraviglioso non ho non ho guardato il codice sorgente però deve essere molto figo vedere un gioco realizzato in React e con 3JS 3JS gestisce la grafica 3D naturalmente e niente funziona è bellissimo vabbè ci sono ovviamente un po' di glitch un po' di penetrazioni poligonali eccetera però se pensate che questa roba viaggia nel browser gira nel browser è abbastanza allucinante ed è open source e nintendo non si è ancora lamentata incredibilmente invece di quello che ha fatto con gli emulatori per adesso non si è ancora lamentata però forse non se ne sarà forse non se ne è ancora accorta quando se ne accorgerà quindi finché non se ne accorge nintendo scaricatelo forcatelo e magari cambiatelo con degli altri personaggi degli altri nomi prima che appunto nintendo lo vada a interrompere e magari poi si può creare anche un gioco intero reale mi sembra che ci sia anche il multiplayer da qualche parte però non ho provato e questo è mario kart 3 js fatto con 3 js e react vi lascio il link molto molto figo molto divertente l'ultimo link è un link che ha segnalato ieri il mio cto Paolo sul nostro slack di spark ha passato questo link che è molto carino serving my blog posts as linux manual pages sapete proprio il man di linux c'è questo tizio James Coffey che ha creato con degli script ha fatto in modo che facendo man su linux utilizzando man si scarichi gli articoli del suo blog e quindi si veda proprio via man gli articoli del blog ed è un post che spiega come ha fatto quindi capite anche come funzionano un po' gli internal di man per capire come funziona man e niente fate le richieste curl poi al suo blog post lo formate in un certo modo in modo che man lo possa digerire e poi lo sputa fuori come proprio pagina di man molto carino divertente serving my blog posts as linux manual pages vi lascio altrimenti anche di questo il link nella descrizione e ho finito grazie per avermi seguito anche in questa puntatona che alla fine l'ho fatta anche se non volevo perché ho overperformato questa settimana però ho fatto anche stamattina perché è così e grazie anche a quelli che mi hanno seguito nell'esperimento di ieri di live a pranzo che comunque è stato divertente ho letto un po' di roba ho fatto un po' di chiacchiere e io credo che lo rifarò sicuramente metterò una calendarizzazione un pochino più sensata però secondo me voi ditemi voi secondo me pranzo funziona cioè l'orario di pranzo funziona 1 e mezza circa 1 e 20 1 e mezza secondo me funziona perché appunto uno si può mettere lì anche se soprattutto se è il remote work e seguire sta roba leggiamo insieme qualche news che magari ho archiviato perché non è entrata nei buongiornoni o magari qualche approfondimento ulteriore alle news o ci guardiamo qualche video insomma insieme e poi lo commentiamo è carino insomma se volete su YouTube sicuramente farò altre live la live che ho fatto ieri è rimasta sul canale quindi è disponibile non so se la metterò in podcast poi insomma ci rivediamo per le prossime grazie di nuovo buon fine settimana fatevi bravi noi ci vediamo la prossima settimana ciao